Ciao Iari, l'aspette è il 5 de l'oeil allo spazio Edoné per fare una bida e per parlare cinema. Tradotto, ci vediamo tutti il 5 di luglio alle ore 19.30 presso lo spazio Edoné per parlare di cinema, per fare un piccolo workshop con me e capire effettivamente che cosa vuol dire utilizzare questo linguaggio artistico, ma soprattutto anche per fare una chiacchierata e parlare di intercultura, parlare di tanto altro insomma. Vi aspetto